Al Tribunale di Firenze è possibile leggere dei verbali che oggi sono pubblici, di un interrogatorio fatto al gran maestro della masoneria. In questi verbali si legge tra l'altro. Gelli ha infiniti amici tra i politici, tra cui Andreotti, Piccoli e Mariotti. A parte che se ne ha infiniti, non so perché se ne citano tre nel caso. Ma dire amico è un termine assolutamente improprio. Io Gelli lo conoscevo come un direttore di un'industria di Frossinone importante, ma certo che non è la Fiat, la Permaflex dei materassi, del resto nelle cerimonie di inaugurazione non faceva nemmeno lui gli onori di casa e li faceva il proprietario.